San Giovese è un vecchio saggio, mi sento di dire oramai dopo tanti anni, dopo essere cresciuto insieme, che è un personaggio che sa come difendersi dai cambiamenti climatici, dagli errori che l'uomo fa nel curarlo, nel guidarlo. Se viene curato e accudito come una persona cara, reagisce bene. Ma bisogna anche lasciarlo un po' fare, bisogna anche lasciargli lo spazio per esprimersi, non pretendere di poter influenzare nel minimo dettaglio il suo comportamento. Ancora oggi imparo con il San Giovese. Ancora oggi imparo con il San Giovese. Ancora oggi imparo con il San Giovese.